e bentornati qui dal masters of the rio ragazzi e perché siamo qui naturalmente oggi siamo qui con le fantastiche figures di naruto ragazzi infatti oggi abbiamo la terza uscita e si e naturalmente stiamo parlando di lui ragazzi il nostro amato e tanto swag sasuke uchiha e quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e passiamo in moita review per andare a vedere e ad aprire questa fantastica figure ragazzi e quindi sigla ragazzi siamo passati in moita recensione e quindi andiamo subito a vedere questo fascicolo ma prima di tutto io vorrei ragazzi annunciare che da adesso in poi il prezzo sarà questo qua delle figures di naruto naturalmente dalla terza in poi passiamo al range dei 10 euro e 99 quindi ragazzi abbiamo alzato il prezzo e speriamo che si alzerà anche la qualità andiamo a vedere però prima il fascicolo di sasuke uchiha uchiha sasuke da veramente figlio che c'è questa continuità tra il fascicolo e il cartone veramente fatto bene sotto ogni punto di vista questo packaging quindi ragazzi mettiamo un attimo questo da parte e andiamo a vedere questo pacchetto che cosa contiene andiamo a splasticare come sempre naturalmente qua ci sono i soliti copuscoli di rito che a noi non interessano gli facciamo andare via e a noi ci interessa questo ragazzi il fascicolo di sasuke naturalmente qua in modalità taca in modalità discepolo di orishimaru qua tutta la storia di sasuke quando aveva creato il suo team e poi la storia con il suo maestro orishimaru la sua spasimante karin eccoci qua ragazzi tutte le sue mosse proibite che fa attraverso lo sharingan mangekyu sharingan e riesce a trasformarsi in questo che vedete qua questo uomo specie di spirito maligno diciamo il susano anche detto e qua ragazzi un fantastico poster per noi veramente ma veramente ma veramente bello di sasuke avvolto dalle fiamme naturalmente continuiamo con tutte le scene migliori di sasuke tutti i suoi scontri più memorabili ma anche quelli col fratello Hitachi che naturalmente non vediamo l'ora che esca la sua figura di Hitachi e qua ragazzi siamo arrivati al momento della conclusione del fascicolo e quindi passiamo al review della figura naturalmente il cartone dietro è sempre uguale quindi non lo faccio nemmeno vedere ecco qua andiamo a far volare via anche questo e ecco qua la figura di Sasuke naturalmente qua credo che ci siamo riusciti da soli oggi ragazzi no anzi si qua ci vuole qua ci vuole ci vuole l'aiuto del nostro filo destriero dov'è? dov'è? eccolo qua la nostra affidata croce di miocca quindi ragazzi andiamo a sguainare 3, 2, 1 sguainato e quindi ragazzi andiamo ad usare per squarciare questo packaging veramente ostico aspettaci qua e andiamo ad aprire questa figure veramente ma veramente bella e che sia un napisa e che sia un napisa e che sia un napisa qua ragazzi anche la sua basetta mettiamo da parte la scatola non si sa mai e andiamo a vedere questa figures ragazzi wow anche questa è veramente realizzata benissimo e ha anche gli sharingan attivati come possiamo vedere naturalmente non sono iper dettagliati ma sembra proprio che siano degli sharingan nella prima forma diciamo non nell'evoluzione Mangekyou quindi ragazzi ecco qua questo è il volto della figure di Sasuke capelli veramente sempre fantastici mi sono sempre piaciuti i suoi capelli veramente fighi ha un po' lo stile di... cavolo ecco ha un orecchio nero what the fuck anche qua comunque sia ha lo stile quello che stavo dicendo di di Jin quello di Tekken comunque si ragazzi qua come di consueto si vede questa posa negli spadaccini la posa con il braccio dentro alla alla vestaia alla veste voglio vedere se entrava questa ah no forse si no no dovrebbe essere così eh fa un po' di fatica ad entrare si un po' di fatica qua c'è il bisogno di l'aiuto della nostra fidata croce di mioc andiamo un po' a scavare la mano per fare un po' il buco andiamo un po' a allargare ragazzi se l'avete anche a voi qualcosa a casa tipo un coltellino svizio o qualcosa lo infiate qua dentro e andate a allargare un po' la mano di Sasuke così la spada ci va precisa e infatti adesso ci va ragazzi questa è l'esperienza l'esperienza del Mastersoft Review che colleziona Figures ormai da tempo in memore e quindi ragazzi finiamo questo review andiamo a vedere un po' questo fantastico sembra un po' il laccio quello dell'accappatoio che ci mettiamo tutti guardate che figata ragazzi questo cordone veramente bello poi qua c'è il fodero della spada naturalmente e qua non può mancare il famosissimo il celebre simbolo di Yuchika della casata di Yuchika e quindi ragazzi eccolo qua anche le sue ciabatte veramente da vero ninja veramente fantastico pantrone nero naturalmente e eccolo qua ragazzi Sasuke con la sua katana veramente ben realizzata e anche direi abbastanza appuntita quindi ragazzi naturalmente non potete non potrete usarla come la croce di Mioc per usare i pacchi per aprire i pacchi perché vedete ragazzi è morbido diciamo comunque sia bella appuntita e niente ragazzi abbiamo finito per oggi dal Masters of the ah no no aspetta non abbiamo finito dobbiamo vedere se si tiene sulla pasetta oh cacchio oh shit oh shit è rotta allora comunque si ragazzi penso si tenga lo stesso ai 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 primo nota sfogo comunque si tiene lo stesso e niente ragazzi adesso abbiamo veramente concluso dal Masters of the Review è tutto se vi è piaciuto questa figures mi raccomando lasciate un bel like a questo video e naturalmente non vi dimentica di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto naturalmente spuntando anche la creativa campanella per rimanere sempre aggiornati con futuri video e niente ragazzi dal Masters of the Review è tutto ci vediamo alla prossima con nuovi e fantastici video ciao ragazzi se siete rimasti qui fino alla fine siete dei cavalieri degni di nota qua sopra alla mia destra potete cliccare sopra il mio faccione per iscrivervi al mio canale invece qua sotto a sinistra troverete un video veramente figo consigliato esclusivamente a te e invece a destra il video più recente che ho realizzato hai mai sentito il cosmo dentro di te che ho realizzato